Benvenuto! Con la funzione Rettifiche potranno essere modificati alcuni specifici dati inviati erroneamente con il file del subentro o acquisiti erroneamente con la funzione di iscrizione per altri motivi. Dai Servizi di registrazione della Web Application, selezionare come tipo di operazione Rettifiche. e scegliere un valore tra quelli proposti nel campo Iniziativa. Indicare i dati della persona o oggetto di rettifica e avviare la ricerca. Fare clic sull'icona Lente di ricerca per selezionare la persona di interesse. Nella sezione Dati controllo si potrà scegliere il tipo di rettifica da utilizzare. Rettifica dati subentro. Rettifica dati iscrizione. Cominciamo con la Rettifica dati subentro. Il sistema ANPR imposta direttamente la modifica sulla sezione Residenza, dove sarà visualizzata la data di decorrenza della residenza, così come inviate in fase di subentro o acquisite in fase di iscrizione per altri motivi. La data di decorrenza della residenza potrà essere modificata anche se sono state effettuate altre operazioni successivamente al subentro o all'iscrizione per altri motivi. Ma non sarà più modificabile nel caso in cui siano state effettuate delle operazioni di mutazione della residenza. Al termine occorre confermare i dati inseriti nella sezione con il relativo pulsante. Se invece la Rettifica riguarda la data di prima iscrizione, la data di ingresso in famiglia e la data di ultimo aggiornamento di cittadini aggiunti in ANPR con il file di subentro, Selezionare la sezione Altre date. Potrà essere modificata anche una sola data delle tre presenti, ma il sistema ANPR controllerà la coerenza tra tutte le date presenti per il soggetto nel sistema ANPR, compresa la data di decorrenza della residenza. Contrariamente alla Rettifica della data di decorrenza della residenza, la Rettifica delle altre date potrà essere effettuata soltanto a valle del subentro, quindi prima di effettuare qualsiasi ulteriore operazione sul soggetto. Attenzione! Non sarà possibile modificare contemporaneamente la data di decorrenza della residenza e le altre date. Se necessario, dovranno essere effettuate due operazioni distinte. Eseguiti gli interventi, selezionare il pulsante Salva e chiudi per completare l'operazione. Ad operazione correttamente effettuata, la Rettifica dati risulterà completata. Vediamo ora la Rettifica dati Iscrizione. Con questa tipologia di Rettifica è possibile modificare il motivo dell'iscrizione anagrafica e la provenienza. Attenzione quindi! Nel caso di cittadino aggiunto in NPR con l'operazione di iscrizione per altri motivi, non sarà possibile rettificare la data di prima iscrizione. In questi casi dovrà essere annullata l'operazione di iscrizione per altri motivi contenente il dato errato e rieseguirla con la data corretta. Al termine, occorre confermare i dati inseriti nella sezione con il relativo pulsante. Completati gli interventi, selezionare il pulsante Salva e chiudi per completare l'operazione. Ad operazione correttamente effettuata, la Rettifica dati risulterà completata. Av vacuna Di 사람�啥 Per controllo Delizista Lembranti Alrago Lasata Potosillas